Quando ero io nei banchi loro avevo poca voglia di starci, quindi vado lì per pagare una sorta di pegno che ho lasciato in quegli anni perché pensavo che forse potevo nel mio essere andare a giro e preferire sempre e comunque un giro in motorino rispetto a un libro, ma magari mi avrebbe fatto comodo sentire qualcuno che mi diceva delle cose, per esempio che ogni libro è una persona intelligente, né più che meno, e nella vita di persone intelligenti ne incontriamo poche, quindi l'idea che uno possa mettersi su una bachete che anche solo venti libri che gli hanno cambiato la vita vuol dire avere venti amici intelligenti, uno non ce l'avrà mai venti amici intelligenti, quindi vado lì a vedere se loro sono d'accordo con me e se si riesce a trovare un po' di persone intelligenti insieme.